Guardare Guidolin che tu hai avuto allo Suonzi e Guidolin ha detto secondo me una cosa molto bella tutti quando parlano di Llorente dicono che è una prima punta, che è forte di testa, è forte di testa, è forte di testa sappiate che Llorente con i piedi è bravissimo, si troverà molto bene con Kayekon, Mertens, Lozano, Insigne insomma non è vero che sei forte solo di testa Speriamo di farlo vedere a tutti, ti dico, per dare il mio meglio bisogno di essere in forma adesso bisogna lavorare tantissimo perché è da tanto che non facevo allenamenti con la squadra e partite allora dai piano piano devo crescere